Ritirare un premio importante come il premio internazionale Navarro per l'impegno contro la devianza sulla rete è sicuramente motivo di soddisfazione. Il motivo di soddisfazione è di questo ringrazio il patron del premio, il professore Enzo Randazzo, il Lions Club di Sambuca di Sicilia, luogo dove è nato il grande Navarro, il grande scrittore Navarro. Lo ringrazio perché significa consapevolezza, sensibilità verso un tema che ci coinvolge tutti. La lotta contro il cyberbullismo, il sexting, il revenge porn, la lotta contro la violenza sulla rete è qualcosa che ormai occupa giorno dopo giorno le cronache quotidiane. Sentiamo tutto quello che sta accadendo, bambini picchiati dopo che hanno visto la serie su Netflix, Squid Game, situazioni che riguardano anche una commistione tra la realtà e il virtuale. C'è bisogno di un impegno concreto, di una forte alleanza educativa, c'è bisogno di una scuola per genitori, c'è bisogno di parlare di questi temi. E dopo la pandemia saremo ancora più provati perché le nostre ore trascorse in rete aumentano di giorno in giorno e anche quelle dei nostri figli. Quindi grazie al premio internazionale Navarro, ma soprattutto l'impegno, questa battaglia di civiltà per un uso consapevole delle tecnologie deve continuare. Questo servizio è offerto da Ottica Mannino, via Sebastiano Catania, numero 257. Qualità, competenze e cortesia a un prezzo contenuto. Controllo della vista è gratuito. Richiedi il coupon sulla WhatsApp Line in sovraimpressione e avrai la montatura in omaggio se acquisti un paio d'occhiali completo. Nel cuore storico di Catania, il CAF Playa di Buio Giuseppe offre l'assistenza e la preparazione che cerchi e servizi davvero gratuiti. Per la vostra comunicazione e pubblicità aziendale contattateci al 338 37 922 71.